Siamo con il direttore generale della Morrone Marco Chiappetta, complimenti da Claudio Morelli per questa vittoria del campionato, ve la siete meritata, vicendo oggi anche una partita importante cioè quella che insomma vi ha portato direttamente in eccellenza. Dicevamo dunque una vittoria importante, complimenti da parte di Morelli e della società Vigola Mesa per questa promozione di Rezzi. Grazie al mister Morelli dei complimenti, è stata dura, però penso sia meritato, penso che sia strameritato, l'abbiamo vinto due volte questo campionato Senza fare nessuna polemica, però se andiamo a vedere adesso i numeri, non lo so, abbiamo pure un distacco importante E' stato bellissimo Anche perché c'era stato quell'episodio della partita persa a tavolo, quindi so che magari nell'attuale, in questo momento, stanno scorrendo molte immagini Sì, 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 non ci siamo mai autoproclamati e nulla, però oggi lo devo dire, siamo stati veramente bravi a questo gruppo, al mister, a tutti E' stata un'impresa personalmente, fino a un mese e mezzo fa eravamo a dieci punti dal San Biasi Non lo so se è mai successo, poi è il quarto campionato di seguito che vinciamo, siamo partiti dalla terza categoria E devo realizzare, devo riprendermi perché sono stati altrettutto 90 minuti intensi, durissimi La Vigor è una grandissima squadra, ha fatto un percorso nella seconda parte del campionato con dei numeri importanti Quindi venire oggi qua a vincere è stata un'altra impresa, è stata un'impresa a vincere Adesso ce lo godiamo, adesso ce lo godiamo, dico la verità Complimenti ancora Grazie, grazie Claudio Morelli, dunque siamo nella sala stampa del Guido Ippolito, al termine di Morrone e Vigo Lamezza Che ha sancito appunto la promozione in eccellenza della Morrone Vigo Lamezza che ora doveva aspettare i play-off, subito ci sarà al Ippolito il Belvedere, la semifinale E poi la finale tra Vigo Lamezza e Belvedere, la finale si farà tra la vincente di Vigo Lamezza e Belvedere col San Biasi Si è analizzato tutto bene, noi oggi al di là diciamo della situazione dell'infortunio di Porpora durante la gara Cioè prima durante il riscaldamento quindi ho dovuto inserire Gatto che ha fatto bene Quindi mentalmente un attimino la squadra poteva risentirne Invece io credo che i primi 20 minuti prima dell'episodio del gol loro abbiamo fatto molto bene Abbiamo creato alcune situazioni importanti E poi sinceramente il secondo tempo, il primo tempo dopo il primo gol hanno avuto così subito il secondo Forse anche da un fallo mi sembra che sia stato, mi dicono i ragazzi Però è andato così, è andato sul 2-0 Mentalmente la squadra, specialmente il primo tempo, ha un po' acceduto Merito comunque alla Morrone che oggi ha sancito la vittoria del campionato e gli faccio i complimenti Certo, ora c'è il Belvedere che in campionato si è dimostrato una bestia nera Sì, adesso bisogna mettersi con la testa in questa gara Diciamo domani ci riposiamo, da martedì ci mettiamo a pensare questa partita Sapevamo che dovevamo fare qualsiasi sia il risultato Dovevamo fare un'altra, almeno un'altra gara Quindi per noi oggi era sicuramente importante cercare di evitare Però sapevamo di affrontare una squadra molto motivata e soprattutto anche forte Ha dimostrato oggi la Morrone di essere veramente una buonissima squadra Ha meritato, credo, di vincere il campionato alla luce delle 30 gare Nel calcio gli episodi sono determinanti Oggi non ne abbiamo avuto a favore Sinceramente, sia per quanto riguarda gli infortuni, sia per quanto riguarda le situazioni in campo Non abbiamo avuto quella bravura di cercarcelo anche questo episodio Perché era importante Adesso testa di nuovo alla benvedere Sappiamo di affrontare una squadra che a noi ci ha messo in difficoltà Con i risultati soprattutto Quindi ci sarà una massima attenzione da parte nostra a questa gara Eccolo qua, Lorenzo Stranges che è un lamettino di conflenti Che è venuto alla Mezzi e ha ottenuto l'eccellenza Con tutta la mia famiglia alla Mezzi Quindi Mi fratelli, sorelle, vivono tutti qua La Mezzi per me, vabbè Sono cresciuto da piccolo venendo qua Vincere qua è stato Facevo il tipo per la Vigor Sono venuto qua Sono venuti giocatori qua di conflenti come Burgo E io ho voluto fortemente che venissero qua Con la Vigor Rapporto fortissimo col presidente Cantafio Ai suoi tempi Sì, gioia assolutamente indescrivibile Grazie